io non so, davvero non ho idea di quale santo in paradiso si debba pregare questa sera non lo conosco, se c'è un santo da segnalarmi in particolare fatemelo sapere perché, non so, San Zaccagni esiste? non lo so, io non ho mai sentito nominare San Zaccagni però nominiamolo questa sera per la prima volta ragazzi siamo qualificati agli ottavi ma siamo troppo brutti per essere veri Calafiore è il miglior trequartista di questa squadra ho già detto tutto Zaccagni che ha praticamente fatto il quinto di centrocampo anche se l'Italia negli ultimi minuti ha giocato con un 3-3-4 ha fatto un gol che probabilmente anche lui faticava a immaginare di poter vivere con la maglia azzurra addosso ci portiamo a casa questa qualificazione con la coda molto tra le gambe perché anche senza il gol dell'1-1 saremmo poi andati a ragionare sui ripescaggi sulle migliori terze per fortuna non dobbiamo pensare a questa roba qui per fortuna passiamo questo girone da secondi in classifica per fortuna la Spagna ha battuto l'Albania è una Spagna rimaneggiatissima andatevi a vedere la formazione della Spagna credo che l'unico titolare fosse nessuno forse un difensore, ora non mi ricordo però comunque stiamo parlando veramente di un turnover della Madonna da parte della Spagna che chiude il girone con 9 punti su 9 a disposizione noi abbiamo tante cose da dirci la prima grazie Donnarumma perché io credo che a mani bassissime sia il miglior giocatore di questa nazionale fino adesso in tutte e tre le partite è stato determinante tant'è che in occasione della partita con la Spagna all'ultimo secondo ho sperato potesse addirittura fare gol Donnarumma se in una partita come quella di stasera dove ti becchi anche contro il calcio di rigore e Donnarumma va a disinnescare non l'ultimo arrivato a un certo Luka Modric dagli 11 metri e riesce a parare un calcio di rigore non puoi dopo due secondi dare nuovamente l'opportunità alla Croazia di fare gol e ripregare nuovamente quel giocatore lì il capitano, il portiere che compie l'ennesimo miracolo l'ennesima prudezza dice no no il gol del 1-0 ancora non lo fai per poi subirlo all'interno della stessa azione nel giro di tre minuti tu hai regalato tre macro opportunità una su rigore una su cross una su ribattuta alla Croazia questo non può esistere è una roba che non può esistere anche perché tu chiudi questo girone con sei punti ma con tre gol fatti e tre gol subiti e tante situazioni un po' ballerine ora Calafiore non ci sarà nella prossima era diffidato ed è stato ammonito quindi sarà squalificato per gli ottavi ci sarà da reinventarsi qualcosa io spero che sia qualcosa di estremamente differente lontano da questo 3-5-2 perché è un 3-5-2 che secondo me non ha ragioni di esistere non ha senso di esistere a me è sembrato un 3-5-2 molto prudente le scelte di Spalletti al primo minuto non mi hanno convinto per nulla a parte che io non credo che sia comunque il modulo giusto per questa nazionale nonostante ci siano tantissimi giocatori che nei club giocano un 3-5-2 se vuoi giocare a difesa 3 probabilmente devi aumentare la qualità tra le linee e mettere due giocatori abili tra le linee Spalletti Chiesa lo vede come esterno nel 3-5-2 e va bene d'accordo va a ricoprire quello che era stata la falsa riga dell'atteggiamento che svolgeva svolgeva compirlo nel suo primo anno alla Juventus un giocatore che principalmente si preoccupava di offendere non di difendere ma se lo tagli anche fuori dall'undici iniziale non so questa nazionale se possa riuscire a tagliare fuori Chiesa dagli undici titolari e non stiamo mica parlando del Chiesa migliore della carriera stiamo parlando di un Chiesa che dopo l'infortunio sta facendo fatica a ritrovare se stesso però anche stasera la palla l'aveva messa dentro per Scamacca io ve lo dicevo in occasione di Italia-Albania Scamacca non può tagliare sempre dietro il difensore scommettendo sul suo errore cioè l'attaccante deve andare a attaccare il primo palo se sei un centravanti un bomber d'aria di rigore il primo palo deve andare a sentire non sempre dietro ad aspettare che passi se non passa mai non facciamo mai gol quelle palle scaricate di tacco sono lezziose non sono corrette bisogna mantenerla bene pulita quella palla in una squadra che sta facendo molta fatica a venire fuori sta facendo molta fatica a distendersi se andiamo anche a perdere queste palle è difficile è complicato abbiamo giocato con un 3-5-2 con 5 difensori quindi un 5-3-2 banalmente l'idea della serata era prendere palle e buttarle in mezzo a grandi linee eravamo lì e allora non capisco Raspadori onestamente e allora viene a dire è un 5-3-1-1 con Raspadori che va a marcare Brozovic cioè non si può ragionare sempre solo prettamente in termini difensivi perché se no vai a castrare quella che è una squadra che sta già facendo molta fatica se giochi a mettere il pallone in mezzo giochi davvero con due centri avanti dall'inizio metti Reteghis camacca tanto l'obiettivo è prendere palla andare sull'esterno buttarla dentro e a maggior ragione ti dico non tengo fuori neanche uno come Gatti che in Europa è il difensore che ha fatto più gol da palla inattiva stiamo parlando di un fenomeno però se ci siamo adeguati a questo tipo di approccio che per me è completamente distante dalle corde di questa nazionale allora proviamo questa strada anche se per me è quella sbagliata Di Lorenzo leggermente meglio come esterno piuttosto che come terzo però stiamo parlando di un giocatore che sta facendo molta fatica Di Marco è un lontano parente da quello dell'Inter meno male che Bastoni e Calafiori hanno difeso bene in determinate situazioni e Bastoni è il giocatore più pericoloso dell'Italia perché questa è una squadra che crea suo calcio d'angolo quello che vi dico allora se questo è l'obiettivo un cross dalla bandierina o un cross dalle fasce metto Reteghis Camacca Bastoni e Gatti gli metto tutti questi non ci siamo siamo ben distanti da quello che dovrebbe essere lo standard qualitativo della squadra campione d'Europa in carica Giorginio forse è un po' troppo facile ormai parlare di Giorginio perché stiamo parlando di giocatori che stanno facendo troppa fatica troppa un giocatore che ormai dà veramente poco e nulla a questa squadra in termini di qualità di palleggio certo è uno di quelli che tratta meglio il pallone però secondo me andrebbe anche un po' rivista e rivoluzionata questa nazionale anche a costo di perdere un palleggiatore come Giorginio tanto stai sacrificando per cercare di mettere nelle migliori condizioni possibili questi ragazzi stai sacrificando delle caratteristiche stesso Barella che è una perfetta mezza alla destra se gli fai fare una partita rincorrere e basta perde tanto perché è un giocatore intenso è un giocatore di palleggio è un giocatore di inserimento è un giocatore che fa gol è un giocatore che può portarti gol se non lo porti mai dentro l'area di rigore diventa complicato sono troppe cose che non funzionano in questa nazionale a me sembra scontato vederla con un 4-3-3 questa squadra che poi possa essere Zaccagni che poi possa essere i Sciarawi non mi spiego perché né Politano né Orsolini molto più probabilmente Orsolini non siano stati portati cioè noi un esterno alla destra che possa rientrare sul mancino e calciare non ci siamo portati bene o male nessuno ci siamo portati Scamacca Reteghi e Raspadori che sono tutti e tre attaccanti con delle caratteristiche molto differenti perché Reteghi forse la prima punta di una volta Scamacca è un po' più moderno Raspadori è una mezza punta che può giocare anche la prima punta a modo suo io non riesco a vedere il fine di questa nazionale mi sembra un misto tra carne e pesce che poi non porta niente e credo che questo girone abbia descritto alla perfezione quello che è questa squadra qui in questo momento la percezione che ho avuto io questi 270 minuti e che neanche Spalletti abbia ancora bene le idee chiare sappia dove andare a parare dove mettere le mani che cosa fare qual è l'obiettivo qual è la volontà qual è il modulo qual è l'idea di gioco che vuole dare a questa squadra questa è una squadra che si classifica a seconda in un girone molto difficile molto difficile quindi dal mero punto di vista dei risultati tanto di cappello è andata come doveva andare girone prevedibilissimo Spagna prima Italia seconda Corazza terza Albania quarta ma una squadra che ha fatto secondo me delle pessime figure perché prendendo in considerazione tre partite quindi sei tempi il primo giocato bene secondo me contro l'Albania anche se quei primi 30 secondi ti avevano già fatto capire un po' l'approccio di questo europeo gli altri cinque tempi per me palesemente insufficienti anche quello di stasera l'Italia si sblocca soltanto quando poi va sotto allora cos'è c'è bisogno della sberletta dello schiaffetto in faccia per reagire per capire di essere vivi per capire che devi fare gol o forse semplicemente ancora siamo distanti dall'avere compreso qual è la nostra identità secondo me è più la seconda poi sicuramente l'elettroshock serviva e ripeto non può una squadra aggrapparsi soltanto al portiere non è proprio possibile che nazionale campione d'europa in carica debba aggrapparsi al portiere sperando che possa tenerci a galla in attesa dell'episodio che ci permette di fare gol non esiste è un atteggiamento ragionamento provinciale è un atteggiamento ragionamento da una squadra che non può in questo modo di difendere il titolo sono contento di essere passato ma sono molto molto arrabbiato per quello che è stato questo girone molto molto brutto anzi ripeto troppo brutto per essere vero le vostre considerazioni qui sotto nei commenti ciao a tutti